Simile a un Dio. Posso? Simile a un Dio, mi sembra quell'uomo che siede davanti a te e da vicino, ti ascolta mentre tu parli con dolcezza e con incanto sorridi. E questo fa sobalzare il mio cuore nel petto. Se appena ti vedo, subito non posso più parlare. La lingua si spezza, un fuoco leggero sotto la pelle mi corre. Nulla vedo con gli occhi e le orecchie mi rumbano. Un sudore freddo mi pervade, un tremore tutta mi scuote. Sono più verde dell'erba, è poco lontano, mi sento dall'essere morta. Ma tutto si può sopportare. Allora, la travesia, non solo, ecco questa è molto bella. Voi amate ragazze, i bei doni della muse Cinte di Viola, è la vostra ora. Prendete la lira melodiosa per il canto. A me la pelle che era così tenera, la vecchiaia devastato e da neri capelli sono divenuti bianchi. È greve, si è fatto il cuore e non reggono i ginocchi, che volavano danzando come cerbiati. Ora aggemo sovente, ma cosa potrei fare? Non invecchiare per l'uomo è impossibile. Così, di titone, dicevano che Aurora, braccia di rose, salì per amore sulla coppa del sole. Portò ai confini della terra lui, che era bello e giovane. Eppure col tempo lo afferrò la vecchiaia grigia, sebbene avesse la sposa immortale.